6 giorni di offerte per tutti coloro che amano l'e-commerce. Dal 20 al 25 marzo Amazon celebra l'arrivo della primavera rendendo disponibile un'ampia selezione di prodotti scontati in tante categorie tra cui elettronica, casa, giardino e giocattoli. Nella vetrina dedicata sul sito amazon.it slash spring deal days è possibile trovare offerte su prodotti selezionati di grandi marchi anche made in Italy. Ne parla Marco Ferrara responsabile europeo del programma offerte di Amazon. La festa delle offerte di primavera è un evento che Amazon dedica a tutti i propri clienti in cui possono risparmiare moltissimo grazie ai prodotti in offerta. Moltissimi prodotti scontati in tantissime categorie da elettronica, casa e cucina, moda. Abbiamo marchi in sconto delle marche più importanti. Sarà un'occasione per tutti i clienti per risparmiare moltissimo sull'ultimo prodotto da loro desiderato, per fare scorta di prodotti di tutti i giorni o anche per prendere un bel regalo. I clienti grazie alle offerte di primavera possono risparmiare su tantissimi prodotti, possono godere delle consegne molto veloci. I clienti sanno e conoscono Amazon per il risparmio ma anche per la velocità di consegna e possono determinare se ricevere il proprio pacco a casa in ufficio oppure in uno dei nostri punti di consegna o Amazon Locker. I clienti Prime avranno accesso esclusivo alle offerte Wow. Ne abbiamo chiamate così perché sono le offerte che noi pensiamo essere più rilevanti. Oltre a questo possono seguire le offerte sempre venendo sul nostro sito. Personalmente io creo sempre una lista dei desideri. Questo è un ottimo modo per scoprire se il prodotto che tanto desideriamo andrà in offerta o meno.